Buongiorno e bentrovati In questa edizione di Mattino 6, mercoledì 14 marzo 2018, gli sviluppi del caso Neri, la sconfitta di nuovo del Pescara, questi fatti principali che troveremo sui quotidiani locali, poi su quelli nazionali, ancora la ricerca di una maggioranza per formare il nuovo governo, l'ipotesi di un immediato ritorno alle urne e anche le decisioni del Presidente degli Stati Uniti, Trump. Andiamo subito ad iniziare la nostra rassegna con le prime pagine dei quotidiani locali. Intanto le quattro edizioni del centro, questa è quella pescarese, l'apertura dedicata alla cronaca, colpo da 800 mila euro in centro. A Pescara si finge postino con un complice rapina 70 Rolex alla gioielleria Seta. E poi sotto la testata l'occupazione cresce ma posti e contratti sono solo a tempo, questo secondo i dati Istat per quanto riguarda la nostra regione. Poi per la politica, pronti a lasciare, Gero Solimo e Di Matteo sfidano d'Alfonso. Gero Solimo e Di Matteo, due assessori regionali in uscita dopo la lettera inviata ieri al Governatore. E poi ancora Abruzzo, diritti negati, 2000 universitari senza borsa di studio. Scendiamo a metà della prima pagina, intanto con la fotonotizia dedicata allo sport. Il Pescara è un disastro, incubo, retrocessione, anche il Carpi vince all'Adriatico. Di spalla vediamo il Rissa a caccia di tracce sull'auto di Alessandro sul fronte dell'omicidio Neri. Neri e poi viabilità, sempre a Pescara, Corso, lavori dell'ACA, slitta la riapertura a Montesilvano. Fototrappole contro chi passa con il Rosso. E poi in basso, a proposito delle decisioni, delle scelte del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Pompeo, l'abruzzese di Trump. Il sogno americano si avvera, nominato segretario di Stato, i suoi avi erano di Caramanico. E poi per lo sport, ancora vittoria per 1-0 di Francesco Porto, porta la Roma tra le otto big di Champions. Qualificazione arrivata ieri sera ai quarti di finale di Champions League per la Roma dell'abruzzese Eusebio Di Francesco. E ora l'edizione aquilana del centro. Ecco l'apertura. Ritrovate le tele rubate dopo il sisma. Pale d'altare sottratti a Capestrano e scoppito erano nelle ville della costa amalfitana. E poi la fotonotizia al centro, con le parole dell'onorevole ed ex ministro Melandri. Entro un anno apre la sede del Maxi, l'ex ministro all'Accademia di Belle Arti. E poi ancora l'Aquila Comune condannato. Mobbing di Gregorio deve essere risarcito. In Basso, ad Avezzano, abito troppo stretto. La sposa chiede i danni. A Sulmona rischiano la multa. Vaccinazione in 50 senza certificazione. L'edizione di Teramo del centro. L'apertura. Rischio stangata per il Comune. Contenzioso che dura da 50 anni. L'ente cerca di pagare la meta di 1,5 milioni. E poi la fotonotizia. Corale Verdi. Festa per i 70 anni. Ma zero aiuti per la storica associazione Teramana. A Torricella. Sindaco aggredito con sassate e pugni. Eccolo qui, Daniele Palumbi. E poi il delitto di Giulianova. La difesa dei Santoleri prepara il ricorso. Inchiesta in Val Vibrata. Assicurazioni truffate con finte residenze. E infine l'edizione di Chieti del centro. L'apertura ancora con la cronaca. Lo pugnala per 50 euro. Arrestata. Cena tra amici. Finisce nel sangue a Chieti. 55 anni ferito a fegato e polmone. E' grave. La fotonotizia. Il personaggio di Chieti. Di Meo. Il barbiere poeta. Che lavora a 82 anni. Sempre a Chieti. La ASL va al voto. 216 in corsa per le RSU. E poi l'iniziativa parte da Casori. Telecamere. Antifurti. In 10 comuni. A Guardia Grele. Scomparso da un anno. E mistero su Benito. Proseguiamo con la prima pagina del messaggero Abruzzo. La cronaca in apertura. I RIS esaminano l'auto di Ale. La Fiat 500 scomparsa e poi ritrovata in centro. Potrebbe essere la chiave dell'omicidio. Pista familiare. Interrogati numerosi parenti del ragazzo. Sabato. Funerale. E cremazione. Sotto la testata a Pescara vaccini. Un'altra settimana di tolleranza per i più piccoli. Economia. Il lavoro cresce ma non è stabile. Regione. Di Matteo e Gero Solimo lasciano la giunta d'Alfonso. I due assessori nella lettera di dimissioni chiedono discontinuità. Le elezioni hanno mostrato uno scollamento tra politica e società. Di spalla. Sì. Alle trivelle. Il Consiglio di Stato boccia la regione. La ricerca di petrolio e gas verrà fatta col sistema degli spari in aria. A centro pagina. La foto notizia. Pescara. K.O. Confischi. Adesso si fa dura. Seconda sconfitta consecutiva all'Adriatico con Epifani. La cronaca. Gioielleria rapinata. Finti postini in fuga con 70 Rolex. In azione due malviventi di cui uno armato. Svaleggiata l'attività seta via Cesare Battisti. In basso Maxi all'Aquila. Tra circa un anno. La prima pagina della città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Che però apre con la politica regionale. D'Alfonso perde due assessori. Di Matteo e Gero Solimo. Si dimettono e chiedono di azzerare l'aggiunta. Pi di proposta irricevibile. Poi ha sempre la politica. Ma in un ambito più strettamente locale. Sotto la testata. Atria al voto. Gli ex assessori contro candidato e sindaco uscente. E poi la foto notizia al centro. Teatro allo scoperto. Copertura inserita dopo il voto in consiglio. Di Spalla. Sempre per la politica. Teramo al voto. Dorotea Mazzette. Se Mister X fosse invece una Miss Y. Sempre di Spalla. Comune e Regione. Convergenze elettorali tra Gatti e Lega. E poi solita storia sulla chiusura dei reparti. La ASDA smentisce i 5 stelle sulla rianimazione giuliese. E infine a fondopagina. Viabilità disastrata. Cede la strada per i prati. La provincia chiede aiuto ai comuni sulle priorità. Proseguiamo. Cambiamo però argomento. Nel senso che vediamo sì le prime pagine. Ma in questo caso delle testate nazionali. Quindi diamo questo sguardo più ampio alle notizie principali. Che arrivano dall'Italia e dal mondo. Ecco qui il Corriere della Sera. Che apre con la politica. Movimento 5 Stelle boccia il governo di tutti. Tensioni nel centro-destra. Poi il mandato a Salvini. Tratti anche con Di Maio. Padoan Italia instabile per l'Unione Europea. Il leader dei 5 stelle. E un avvenenatore di Pozzi. E poi per la Champions sotto la testata. La Roma raggiunge la Juve nei quarti. E poi a centro pagina. L'intervista di Aldo Cazzullo. Al ministro Franceschini. Riscriviamo le regole. Poi alle urne. E poi ancora in basso. La fotonotizia svolta di Trump. Cacciato Tillerson. Una donna alla CIA. Pompeo. Segretario di Stato. Ecco. L'oramai ex segretario. Appena cacciato da Trump. Rex Tillerson. Mike Pompeo. Che ha origine abruzzesi. Come abbiamo visto. I nonni erano di Caramanico. Neosegretario di Stato. E poi il nuovo capo della CIA. Gina Aspel. Poi ancora. La prima pagina di Repubblica. Ecco qui. La trincea di Maio Salvini. No al governo con tutti. Padoan Italia instabile per l'Unione Europea. Il leader 5 stelle. Un avvelenatore di Pozzi. Poi le parole di Di Maio. Vogliamo governare ma non abbiamo paura di tornare alle urne. La Lega. Queste le parole invece di Salvini. Mai con idem. Ignoriamo il tetto del 3% imposto dall'Europa. E poi ancora. Non c'è pace alla Casa Bianca. Trump licenzia anche Tillerson. Il presidente. Ho deciso solo io. Al suo posto. Pompeo. Alla CIA. Una donna a capo. delle spie. E poi in basso. Auto blu. No della consulta alle dimissioni del giudice. Fiducia in lui e nei PM. Poi ancora. Su Abertis. Raggiunta l'intesa tra Atlantia e gli spagnoli. Nasce il colosso delle autostrade. La prima pagina della stampa. L'apertura ancora con la politica. In camere. Mandato a Salvini. Il centrodestra sarà il leader del carroccio a trattare le presidenze. Berlusconi. Nessun pregiudizio sui 5 stelle. Tensioni sull'Europa tra Di Maio e Padoan. Il ministro avvelena i pozzi. Si allontana l'ipotesi di un voto bis. Poi di spalla. Ancora Trump licenzi a Tillerson. Arriva il falco Pompeo. E poi a centropagina la fotonotizia. Le librerie come quadri per catturare lettori. Il nuovo fenomeno moltiplica gli allestimenti artistici. Così il fascino si trasmette ai volumi. La prima pagina del sole 24 ore. Con l'apertura banche e nuove regole. Europa senza accordo. Dombrovskis. 8 anni per smaltire gli NPL futuri. ECOFIN diviso sul tetto alle passività. 8% per accendere al fondo di risoluzione. Poi ancora l'altra faccia del protezionismo. Trump si lura anche Tillerson. Hightech USA e Unione Europea contro la Cina. E poi in taglio medio. Via alla ricerca di gas in Adriatico. Possibili nuove trivellazioni dalla costa della Romagna fino alla Puglia. Il Consiglio di Stato respinge ricorsi dell'Abruzzo contro il Ministero dell'Ambiente. Proseguiamo. Siamo al fatto quotidiano. Ecco l'apertura. L'unico boom è dei lavoratori presi in affitto per qualche ora. Nel 2017 aumentano del 25% gli interinali. Record da 15 anni. Miracolo del Jobs Act. E poi scendendo verso il centro pagina. Consulta di missioni respinte. La Corte si tiene Zanon indagato per l'Auto Blu. E poi in taglio medio. Ancora la politica botte da orbita Berlusconi e Salvini. E Leo denuncia Brogli pro Forza Italia. Di Maio fa il moderato. Ma niente governissimi con tutti dentro. Poi ancora Norcia. Sindaco e Boeri inquisiti. Abusivo il centro polivalente. Proseguiamo con il manifesto che gioca con le parole per le scelte del Presidente degli Stati Uniti Trump. E quindi titola Killerson. Lui li ha creati. Lui li distrugge. Il segretario di Stato Rex Tillerson è l'ultima vittima sacrificale di Trump. La più illustre tra i 20 membri dello staff già cacciati dalla Casa Bianca. O costretti a lasciarla. Via libera a Mike Pompeo. Fanatico della linea dura con Iran e Nord Corea. E poi sotto la testata Di Maio si sfila dal governo di tutti. Il leader dei 5 Stelle. Le urne non ci spaventano. La prima pagina del messaggero. Ancora la politica in apertura di pagina. Movimento 5 Stelle e Lega. No al governo di tutti. Di Maio intrincea. Stop a formule istituzionali. Non temiamo elezioni. Scontro con Padoan. Vertice del centro-destra Salvini e Berlusconi. Cerchiamo voti tra i grillini per esecutivo e presidenze. Poi sotto la testata altre denunce. Molesti anche per l'archistar Meyer sotto accusa. Mi auto sospendo. E poi la fotonotizia con la Champions League. Champions Roma. Shakhtar 1-0. Magia di Dzeko. E vola ai quarti fra le prime otto in Europa dopo dieci anni. La Roma. Poi terremoto Trump. Via Tillerson. La prima donna a capo della CIA. Il Falco Pompeo sostituisce il segretario di Stato. Haspel guiderà l'agenzia. E poi in basso. Pioggia e l'anno dei record. Estate senza rischi. Siccità. Precipitazioni più 16% rispetto al passato. Siamo al tempo che apre così. Asilo politico. Dossier. Parlamento mai così giovane e inesperto. 44 anni. Età media dei deputati. 52 per i senatori. Due grillini su tre. Al primo incarico il partito della femminista Boldrini. Con meno donne elette. La fotonotizia al centro. Sempre soliti problemi a Roma. Altra buca. Altra figuraccia. E poi di spalla. Parla Fontana. Ultimatum Lega. In carico a noi. Oppure si rivota. E poi ancora. Rischiamo di trovarceli in Senato. Ma il vice Mattarella può farlo Toninelli. E poi ancora in basso. Battisti. E' stradabile. Ora datecelo. La procura brasiliana amole il terrorista. Torreggiani. Non vedo l'ora. E ora libero con questa apertura. Chi pesca un nero trova un tesoro. Si specula sull'immigrazione. Le cooperative che accolgono profughi hanno raddoppiato gli utili in un anno. Affari d'oro anche per chi riporta a casa i clandestini. Ma denaro per gli italiani non c'è. 6 milioni di lavoratori poveri. Di spalla. Assalto a Palazzo Chigi. Questi puntano a governare. Ma nessuno ha la maggioranza. Sogni proibiti di giudici, tecnici e politici. Quindi vediamo i volti del premier uscente Gentiloni, Di Maio, Di Salvini, Padoan, Maroni, Cottarelli, Tesauro e Cassese. E poi in taglio medio Sorrentino a Voltoio, il film su Berlusconi e Vile a Canimento. La verità. Ecco il titolo d'apertura. Anche in questo caso la politica. Il piano di Movimento 5 Stelle e Lega per tornare a votare fuori dal vicolo cieco. Non serve un governo, basta che appena insediati i presidenti delle camere si vari una nuova legge elettorale. I numeri ci sono. Scendiamo in taglio medio. Ratzinger sbugiarda i cortigiani del Papa. L'intero testo della lettera strumentalizzata. Non ho il tempo di leggere i libri su Francesco. Poi ancora andiamo alla prossima testata. che è l'avvenire, l'apertura. Eccola qui, gli artigli di Trump, il presidente Licenza Tillerson, il Falco Pompeo e segretario di Stato. La Dura Haspel va alla CIA, il responsabile della diplomazia degli Stati Uniti. Rimosso con un tweet. Non andavamo d'accordo su molte cose. Dissidi dall'Iran alla Corea. Poi per la politica, Movimento 5 Stelle e Lega. Chiudono al governo di tutti. Salvini, Michael Pd, più possibilista sui 5 Stelle. Berlusconi spiazzato. Il mattino con il titolo d'apertura, sempre con la politica. I paletti di Di Maio e Salvini. Escludo l'esecutivo istituzionale. Mai con il PD. Gli altri vediamo. Il leader grillino. Il voto non ci spaventa. Azzurri in pressing su Berlusconi. I leghisti devono essere leali. Lasciamo, chiudiamo qui la parte riguardante le prime pagine delle testate nazionali. E ora andiamo a sfogliare i quotidiani locali. E partiamo dal centro con l'economia in primo piano a pagina 2. Ecco qui. Occupazione. L'Abruzzo guadagna 6.000 posti nel 2017, ma per l'80% sono a tempo. I segnali di ripresa ci sono, soprattutto nel Pescarese, ma i contratti sono per lo più a termine e i salari bassi. L'economista Mauro c'è un reale problema di innovazione. Reggono le grandi imprese, dice l'economista, ma lo sviluppo si fa incidendo sulle piccole imprese. E poi ancora dagli anni pre-crisi mancano all'appello 20.000 posizioni, soprattutto nell'industria. E poi in basso De Cecco Junior punta sui vini d'altura. Il giovane Adolfo rileva e rilancia i vigneti e la cantina gentile di Ofena. Nell'Aquilano dunque. Gli impianti storici e quelli nuovi insistono su terreni dai 400 agli 800 metri sul livello del mare. E poi ancora, sempre sul fronte lavoro, in Italia i dati sono ai massimi storici per i dipendenti, a termine che per quelli fissi. Non così nella nostra regione, che fatica a reggere il passo. E poi ancora le reazioni a questi dati pubblicati dall'Istat. I sindacati critici, crescono solo i contratti a termine, ma l'assessore Paolucci ribadisce, dal nostro arrivo in regione sono stati recuperati 41.000 posti. In basso, nuovi voli all'aeroporto d'Abruzzo, da maggio con Volotea, Pescara-Catania, più vicine. Andiamo avanti e siamo alla pagina d'Abruzzo, pagina 10. Università scoppia la protesta. Niente borse di studio a 2.000 studenti. Ne hanno diritto, ma i soldi della regione non bastano. All'Aquila-Sitin, davanti a Palazzo Sidone, dei giovani di Udu, 360 gradi. Poi ancora di spalla, Cassazione, rinvio confermato, il processo di bus si può slittare dopo l'estate. Ecco qui ora di nuovo la politica con delle fibrillazioni in seno all'esecutivo regionale. La sfida Gerosolimo di Matteo. I due assessori annunciano l'uscita dalla Giunta d'Alfonso. Queste non sono dimissioni. E poi ancora le pagine di Pescara. Con la cronaca, omicidio neri. RIS cercano le tracce dei killer sulla 500. I carabinieri hanno esaminato l'auto di Alessandro ritrovata in via Mazzini, sotto Torchio. Chi conosceva bene il 28enne. A tal proposito vediamo il servizio realizzato ieri dal TG6. La chiave di volta del giallo della morte di Alessandro Neri potrebbe essere nei dettagli, nei piccoli particolari. Quelli che assieme agli specialisti del RIS i carabinieri stanno cercando all'interno della 500 rossa di Alessandro, con cui il ragazzo di Spoltore lunedì scorso si è allontanato da casa per l'ultima volta. Questa mattina i militari del reparto scientifico hanno prelevato e catalogato ogni minima traccia. La ricerca di un appiglio investigativo che possa dare un volto, un nome e un movente al killer o ai killer di Alessandro. Sulla 500 rossa con il tettino beige alleggia un mistero. Le chiavi, come confermato ieri dal colonnello Marco Riscaldati, comandante provinciale dei carabinieri di Pescara, non sono state trovate nei vestiti del ragazzo. La macchina, mercoledì, è comparsa davanti alla pizzeria Maruzzella di Via Mazzini, in pieno centro a Pescara, lì dove il pizzaiolo dice di non averla vista il giorno precedente, cioè il martedì. Macchina in perfetto ordine, forse ripulita e lasciata proprio sotto la casa di uno dei cugini di Alessandro, Gaetano Lamaletto, partito però per gli Stati Uniti ai primi di marzo e con il quale, sembra, ci siano stati a più riprese dissidi e dissapori. È un aspetto che stiamo approfondendo perché le videocamere sono molte, sparse sul territorio cittadino, per cui è logico che la scansione temporale pure è molto ampia e c'è bisogno di diverso tempo per prendermi. In genere in un'indagine che si prefigura complessa come questa è logico che le persone che possono essere utili alle investigazioni, plausibilmente non vengono ascoltate una sola volta, ma se è del caso possono venire audite più di una volta. Al momento non ci sono indagati, anche perché i carabinieri e la procura di Pescara non vogliono e non possono escludere alcuna pista. Sia quella interna, la famiglia che però, sempre per bocca del colonnello, ieri allontana da sé ogni ombra, sia quella esterna, legata ai rapporti dell'Amaletto con il Venezuela e anche alla cerchia delle amicizie di Alessandro, l'unico dei figli dei neri ad essere rimasto nella casa di famiglia con la mamma Laura. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti ci sono i tabulati telefonici per ricostruire gli ultimi incontri di Alessandro, sia le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro di Pescara, per capire e ricostruire il percorso della 500. Che sia stata un'esecuzione ormai è certo, i due colpi di pistola, uno al torace e l'altro, quello fatale alla testa, non lasciano spazio a dubbi. Con ogni probabilità, Alessandro è stato portato nella strada di campagna vicino al cimitero di San Silvestro, sotto la minaccia della pistola, una calibro 7,65 e poi lì giustiziato. Sempre la cronaca sul centro, finto postino, rapina 70 Rolex in gioielleria, via Battisti, bandito camuffato, si fa aprire la porta e fa entrare un complice le commesse di seta minacciate con la pistola, ed è un colpo da ben 800 mila euro. In basso, droga e 10 mila euro nascosti in casa, arrestato giovane spacciatore, fermato in auto con pochi grammi di hashish. Poi ancora la viabilità in centro, perde una condotta idrica, slitta l'apertura del corso, l'ACA ha individuato due rotture all'altezza di via Palermo in via della Bonifica. Blasioli, aspettiamo la fine dei lavori per ripristinare il doppio senso di marcia. Poi ancora il comune riattiva le fontane dimenticate, partiti ai lavori e gli impianti di Piazza Lelaudia e delle Naedi. Alessandrini funzioneranno a Pasqua. Proseguiamo con i disagi al CUP di Pescara. Ecco qui, CUP, 348 persone in coda, l'ASL sistema in rodaggio. Qui vediamo alcuni degli scatti con utenti in coda al centro unico di prenotazione di saggi con il nuovo metodo di prenotazione online, attese di ore nei distretti. Le parole di un utente, Arturo Grembi, sono arrivato alle 7 del mattino e ho trovato 100 persone davanti a me. Dopo tre ore di attesa ho deciso di andare via. In basso, dipinti per i bambini ricoverati, donate da docenti e studenti del MIBE, sei opere per neuropsichiatria infantile. Ancora la cronaca, sempre a Pescara, salva il fidanzatino 14enne dall'assalto del rapinatore. L'adolescente è avvicinato alla stazione da un balordo che pretendeva dei soldi. La ragazza, al telefono con lui, ha contattato la polizia che ha bloccato l'uomo. Avanti ancora, in basso addio a Leuzzi, storico negoziante, un altro lutto per la famiglia di commercianti di Porta Nuova, stamani e funerali. Proseguiamo con la pagina successiva. La scuola in primo piano, gli alunni di San Silvestro traslocano in via Rubicone. Quasi completati i lavori di riqualificazione della scuola dell'infanzia a San Donato, al via anche la manutenzione di altri 20 istituti cittadini per 400 mila euro. In taglio medio, l'alberghiero alleva i futuri cronisti. I giornalisti si diventa, sono 22 gli studenti del Biegno, ieri in visita alla redazione del centro. Avanti ancora, siamo a Francavilla, senza spiaggia, ombrelloni gratis. Ecco come cambia l'offerta dei balneatori che fanno i conti con l'erosione. Più servizi, con poca sabbia. Siamo alla pagina di Montesilvano. Foto trappole per chi passa col rosso. Altri sei occhi elettronici saranno collocati su altrettanti incroci pericolosi della città. Per l'estate una ZTL antiprostituzione. Poi le parole dell'assessore Walter Cozzi. Non abbiamo ancora deciso dove installare i nuovi dispositivi. Un'attenzione particolare sarà riservata alla nazionale adriatica. Poi ancora, in taglio medio, debito a rate per evitare il pignoramento. L'associazione dei consumatori Udicon si presta a dare una mano all'ex prof derubato in casa. Avanti, siamo a Spoltore. Casa ex Ompi c'è il bando per cambiare gestione. L'amministrazione di Lorito cerca una nuova conduzione. La casa di riposo da 41 posti letto. Non paga più i dipendenti da diversi mesi. In Val Pescara, a Popoli, in particolare, Tarda Ragione al Comune, sbloccati i fondi del PEP1. L'amministrazione del sindaco Galli vince un ricorso contro la regione che aveva fermato un progetto antiallagamento per circa un milione di euro. E poi, in taglio medio, a Penne, biblioteca, la città non può più aspettare. Appello alle istituzioni della consigliera Duttilo dei Cinque Stelle. La struttura è chiusa da oltre un anno. Proseguiamo con le pagine di Chieti. Tentato omicidio, tre coltellate per un debito di 50 euro. Cena in casa finisce nel sangue. Donna colpisce al fegato. L'amico intervenuto per sedare la lite. Arrestata. Lui è grave. L'azione è pianificata. Secondo l'ipotesi dei carabinieri sarebbe stata un'azione premeditata. Il coltello portato da casa è nascosto nei pantaloni. La donna si difende davanti al jeep. Non volevo ucciderlo. Sono stata aggredita alle spalle e presa per i capelli. Ho reagito. Avanti ancora. Siamo a Guardia Grele. Benito. Un anno trascorso nel mistero. Domani la ricorrenza della sparizione dell'83enne. La figlia Rosanna. Questo silenzio fa paura. Le ricerche devono ripartire. E un altro scomparso è il fotografo di Chieti De Torre. Di lui nessuna traccia. Da ottobre 2015. Proseguiamo. A Ortona. Scuole. Doppia presidenza. Ortona rilancia la richiesta. La proposta fa perdere la dirigenza del liceo scientifico Volta Francavilla. Il sindaco. Abbiamo 1.400 studenti. La seconda dirigenza è un nostro diritto. Le pagine di Teramo. Piazza Sant'Anna. L'esproprio sbanca le casse del comune. L'ente è stato condannato a versare un milione e mezzo per l'area acquisita nel lontano 68. Il valore iniziale era di 39.000 euro. Trattativo in corso con gli ex proprietari per sborsarne 700.000. Poi in basso per la cronaca truffatore seriale collezione a 10 inchieste. Terramano accusato di colpi in sei province. Si faceva pagare online auto e vestiti mai inviati. Poi a Giulianova il delitto della pittrice. Telecamere e intercettazioni al riesame. La difesa di Giuseppe Simone Santoreri prepara il ricorso contro gli arresti. L'avvocato Reitano ricostruzione unilaterale. E poi in basso il bilancio della ricorrenza dei 100 giorni all'esame. Sei giovani intossicati dall'alcol e un guidatore trovato ubriaco. Avanti ancora siamo alla pagina di Atri e Silvi. Atri al voto nasce la casa dei moderati. Centrodestra diviso in tre il movimento di italiani e di giacinto. Si aggiunge a quello di Marcone e alla lista di Ferretti. E poi a Silvi. Ecco l'associazione per valorizzare Silvi. Creata da operatori commerciali e cittadini. Punta a promuovere iniziative di turismo sostenibile. A Roseto, Borsacchio, stop al cemento, via al recupero dei casolari. Il piano di assetto della riserva punta anche sul ripresino dei sentieri e su attività ricettive. Il sindaco di Girolamo sarà portato in consiglio per l'adozione. Ma prima faremo un incontro con tutti. Le pagine aquilane. Scacco ai ladri sacrileghi. Ritrovate le opere rubate dopo il sisma. Le cinque palle sottratte nelle chiese terremotate di Capestrane Scopito. Erano nelle ville dei VIP sulla costa Amalfitana. I capolavori presto saranno restituiti ai luoghi originari. Sono opere realizzate alcuni secoli fa da artisti di ottima scuola. Finora ci sono tre denunce dei carabinieri. In basso, Melandri, sul Maxi. Apertura entro un anno. L'ex ministro ieri alla cerimonia dell'Accademia di Belle Arti. Fa il punto sulla struttura. E poi ancora, chiudiamo con quest'ultima pagina prima di andare in pubblicità. La sentenza dopo tre anni. Mobbing. Il comune risarcirà di Gregorio, il giudice del lavoro. Il funzionario è stato demansionato. L'ente dovrà pagare 50 mila euro per danno biologico. E poi, in basso, il sisma del 2009. Tasse da restituire. Si spacca il fronte della protesta. Invece, ad Avezzano, nozze da incubo. Stilista davanti al giudice. L'abito difettoso cambiato a poche ore dalla cerimonia. La sposa chiede il risarcimento danni. Ci fermiamo con la prima parte di mattino 6. Spazio alle previsioni del tempo, alla pubblicità. E poi rientriamo con la seconda parte, sfogliando il messaggero e la città. Di nuovo, buongiorno. È la seconda parte di mattino 6 che apriamo sfogliando le pagine del messaggero. Ecco qui il report sull'economia. Il lavoro cresce, ma non è stabile. I numeri dell'Istat sulla ripresa di soccopazioni in calo nel 2017. Molti contratti però sono a termine. Bene, l'export piccoli ancora in crisi. Recuperati in un anno circa 6 mila posti. Pescara è la città che traina lo sviluppo in forte calo la cassa integrazione. Poi la politica regionale. Gli assessori Gerosolimo e Di Matteo. Abbiamo sbagliato. Ci dimettiamo. Lettera ad Alfonso. Con la richiesta di azzerare l'aggiunta. C'è bisogno di discontinuità con il passato. E poi le pagine di Pescara con la cronaca in evidenza. Colpo grosso da seta. Rubati 70 Rolex. Banditi travestiti da Postini alla gioielleria di Via Battisti. Le commesse terrorizzate sotto la minaccia di una pistola. Erano in due. Hanno svuotato la teca dei preziosi orologi. E sono fuggiti in sella a un motorino. Indagini dei carabinieri. I rapinatori hanno agito alle 9.30. E' avvolto coperto. Indossavano il casco. Poi ancora in basso. Tenta di rapire un ragazzino preso. Paura per un 14enne alla stazione di Porta Nuova. Passanti e fidanzatina chiamano il centro 13. Che arresta un 21enne. In basso disturbi alimentari. Visite gratuite. Alla fondazione Legrino Olus. In via Alento. Si possono fare prenotazioni fino al 17 marzo. E poi, sempre per la cronaca, come abbiamo visto nel servizio precedente, un'altra auto seguiva la 500 di Ale. Dalle immagini acquisite, la 500 della vittima sembra essere scortata. Non si sa chi fosse al volante. Ritrovata in via Mazzini, pulita e senza traccia di chiavi. La cabrio rossa è stata esaminata ieri dagli esperti del RIS. Funerali a Spoltore sabato alle 15.30. L'abbraccio della comunità italo-venezuelana alla famiglia. Proseguiamo. Siamo sempre a Pescara. I disegni del MIBE per i baby pazienti. 20 studenti del liceo Misticoni Belisario hanno donato 6 opere alla neuropsichiatria infantile del Santo Spirito. La preside Cocco prosegue una collaborazione iniziata 5 anni fa per rendere il reparto a misura di bambino. Poi, avvocati in sciopero, la Cassazione rinvia bussi. L'avvocato Navarra servirà all'udienza numero 85. Prescrizione sospesa. Siamo ora alle pagine Aquilane. Palazzo del benzinaio al palo. Biper ritarda la ricostruzione. L'istituto è proprietario di alcuni locali, ma da Modena tardano le autorizzazioni. Il coordinatore dei progettisti, tempi ministeriali incompatibili con i cantieri. Da tempo il complesso attende una nuova veste dopo il terremoto già all'attivo. Oltre 15 assemblee. E poi ancora di Spalla la polemica sul fronte politico. Mancini a masciocco contro i sindaci. Spà è un disastro. In basso ricostruzione privata. Duello tra Biondi e Benedetti, l'ex presidente del Consiglio. Lavori fermi. Il sindaco replica numeri alla mano. Che brutta figura. E poi ancora, sempre all'Aquila, Belle Arti e Maxi. La città delle eccellenze. La Melandri all'inaugurazione del 40esimo anno accademico. Nel 2019 aprirà la sede di staccata del museo. Qui contesto unico. Lolli, condizioni favorevoli per andare in controtendenza. Biondi, caleidoscopio straordinario. Marotta chiede risorse. Allora ascoltiamo l'ex ministro Melandri sul Maxi. Ci vorrà un altro anno ancora. Prima di inaugurare la sede del Maxi all'Aquila nel restaurato Palazzo Ardinghelli. La conferma arriva dall'onorevole Giovanna Melandri, presidente della fondazione Maxi. All'Aquila ci sarà la prima sede di staccata del Maxi. Come è noto, l'obiettivo è creare collaborazioni con le realtà del territorio. In primis, proprio con l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Sono qui perché siamo consapevoli che questo è un territorio ricchissimo di istituzioni culturali, di una storia nella cultura, nella scienza, nell'arte importante. Quindi siamo anche consapevoli che questo progetto del Maxi atterra in un territorio ricco. E quindi siamo consapevoli di dover lavorare, fare rete con queste istituzioni. Il progetto del Maxi è in corso. Realisticamente ci vorrà ancora circa un anno prima di poter inaugurare il museo. Per noi è una bella sfida, per il Maxi nazionale che mette a disposizione l'utilizzo della sua collezione. e speriamo di poter contribuire con questa avventura al rilancio e al pieno sviluppo di qualità e anche di qualità culturale di questo territorio che, ripeto, ha una storia ricchissima e poi sappiamo essere stato anche ferito dal terremoto. Sempre la pagina aquilana sul centro, direzione del TSA, la lista secretata dopo tre mesi e mezzo scoperto l'elenco dei candidati, la scelta a novembre cadde su Cristicchi, tanti i nomi doc. E poi in Marsica, con le parole dell'ex sindaco di Avezzano Di Pangrazio, De Angelis, vira a destra, ma come l'Udc era schierata con me e i civici non aveva fatto nascondere tutti i simboli. La polemica politica sta accendendo gli animi in città, ma sono gli ultimi fuochi prima delle scelte definitive. La sterzata dello scudo crociato e le garanzie chieste per governare il comune. Proseguiamo con la cronaca di Chieti, lite per 50 euro, poi tenta di uccidere l'uomo sbagliato. Una cena tra amici, sfocia nel sangue, i carabinini arrestano una donna colpito con tre pugnalate. Un 55 anni è intervenuto per interrompere la zuffa, sono una femmina d'onore. Così Anna Maria Marinelli si era portata il coltello da casa per vendicarsi. Vediamo il servizio realizzato ieri dal TG6. La restituzione di un'irrisoria somma di denaro, forse per ottenere una residenza in città mai arrivata, potrebbe essere la causa ancora da verificare di un accoltellamento avvenuto lunedì sera intorno alle ore 21 all'interno di un'abitazione in via Padre Valignani a Chieti. Per questo è stata arrestata oggi nel capoluogo teatino dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio Anna Maria Marinelli, 64enne, già conosciuta alle forze dell'ordine per precedenti. Secondo la ricostruzione dei militari, i cinque amici si sono incontrati per una cena, ma durante la serata, causa anche l'alcol, sono riaffiorati vecchi problemi, così da suscitare l'ira della donna che ha cominciato ad inveire contro un commensale. A questo punto ai due si frappone una terza persona, che nel cercare di sedare la lite, viene raggiunto da tre fendenti, sferrati con un colterlo a serramanico, di cui uno raggiunge l'uomo all'addome causandogli la perforazione del fegato. L'uomo 55enne è stato operato d'urgenza nella notte, adesso si trova ricoverato in terapia intensiva, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ce l'aveva dichiarato lei che sostanzialmente si era portato al seguito il coltello da casa, un coltello a serramanico di 10 cm lungo. Il tutto scatenato per futili motivi? Per futili motivi sostanzialmente attingeva il soggetto, l'individuo che si era frapposto tra i due e accoltellandolo per ben tre volte, ed un colpo di questi ha attinto il fegato perforandolo. Questo ha determinato un intervento d'urgenza che è stato determinante per metterlo in salto. Signore che diceva di vantare un credito irrisorio di 50 euro? Di 50 euro esattamente, un credito di solo 50 euro, questo è stato il movente scatenante della lite. Sempre nella pagina di Chieti, di spalla, strade come con la Brodo, parte il piano dei lavori, il comune metterà soldi nel bilancio, la provincia ha 1,5 milioni del masterplan. In basso, minacce e violenza privata. Indagati 5 oltre del Chieti, nel mirino dei tifosi anche la curatrice fallimentare, Nicola Corvacchiola, l'incontro c'era stato davanti al sindaco. Poi a Lanciano, difendi tuo padre, se no sono guai. La donna è finita sotto processo, picchiava e minacciava la figlia che non doveva dire ai giudici che era stata violentata. L'uomo, oggi 49enne, nel 2015 era stato arrestato per le violenze e gli abusi nei confronti della bambina di 8 anni. Le pagine, terramane del messaggero Zara, apre al Gran Sasso, negozi del centro in Trincea, un maxi store al centro commerciale di 3.500 metri quadrati dedicato all'abbigliamento, nuova apertura anche in Corso San Giorgio, affitti più bassi per non dover chiudere. Dei 100 shop aperti all'inizio ne sono rimasti una sessantina, dice Antonio Topitti, di Confesercenti, di Spalla, poi Teatro Romano, coperto, il comune fa dietro front, si lavora ad altre ipotesi, il progetto sarà illustrato nel corso di un evento. E poi ancora, siamo al giallo della pittrice, Santoleri, il mistero della 600, delitto Rapposelli, legali di Giuseppe Simone si dicono pronti a ribaltare le accuse davanti al Tribunale del Riesame. Per la difesa una foto mette in dubbio le ricostruzioni degli inquirenti, poco il tempo per presentare il ricorso. Dove stava andando l'utilitaria sull'Adriatica? Lo svelano gli avvocati di padre e figlio. E poi ancora, sempre per la cronaca, è sempre a Giulia Nova sequestrata la mamma in casa perché non gli dà i soldi per la droga e poi scappa. L'anziana donna ha chiamato i militari dell'arma per liberarsi dell'oppressione del figlio 32enne. Lasciamo il messaggero, andiamo a sfogliare le pagine della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Ripartiamo da pagina 3, che è dedicata alla politica regionale. Due assessori danno la spallata ad Alfonso, Donato Di Matteo e Andrea Gero Solimo, si dimettono e chiedono l'azzeramento della giunta regionale. Abbiamo il dovere morale di riconoscere lo scollamento tra noi e gran parte degli abruzzesi. La richiesta di azzeramento della giunta è irricevibile sia sul piano istituzionale che sul piano politico. Dice Rapino, segretario regionale del PD, la discussione interna alla maggioranza è necessaria. Se rimettere il mandato è un passo per discutere il rilancio delle azioni di governo. Siamo disponibili al confronto. E poi ancora il totocandidature, siamo al comune di Teramo. Il Mr. X potrebbe essere invece una Miss Y, il nome della giornalista Dorotea Mazzetta, spendibile per una candidatura a sindaco appoggiata anche dai Gattiani. I Mr. X predecessori Stefano Cianciotta, Pierangelo Stirpe e l'arbitro Giampaolo Calvarese. Avanti ancora, sempre la politica, convergenze elettorali tra Gatti e Lega. Dialogo aperto sulle amministrative, ma c'è chi scommette anche sulla corsa alla carica di governatore. Tre indizi, tre. Il rapporto con Canzio, il magro risultato di Forza Italia su Teramo, i voti alla Lega nei comuni Gattiani, le proposte alle politiche. Avanti ancora, in Abruzzo cresce solo il lavoro precario. dati Istat, quarto trimestre del 2017, la CGL in pallina e il Jobs Act per la Regione. Risultati positivi e trend in crescita. A pagina 7, Teatro Romano, la copertura è spuntata dopo il voto. Non era prevista nello studio di fattibilità del 2010 e comparsa nel progetto preliminare del 2016. Proseguiamo. L'ufficio ricostruzione striglia, stindeci e tecnici per il direttore d'Alberto. Le istanze per i contributi delle B non corrispondono ai danni subiti del cratere. La scadenza, il 31 marzo, è il termine previsto per compilare e presentare le schede EDES sui danni leggeri in B. Le notizie dalla provincia. Siamo a Castellalto. I ritardi del ponte causati dal centro-destra di Marco e del Papa rispondono alla E-Torre. Per anni hanno portato avanti un'azione, pardon, un'idea irrealizzabile. Andiamo a pagina 10. Strade Colabrodo, la provincia, chiede aiuto ai sindaci vibratiani. Vertice per individuare le priorità. Intanto crescono le segnalazioni da parte dei cittadini esasperati. La situazione è disastrosa. I tratti messi peggio sono quelli della bonifica del Salinello e della provinciale tra San Nicolò e Garrufo. A Giulianova sospese le strisce blu in Viale Orsini. La Giulianova patrimonio disattiva le colonnine lungo tutto il lato est. Il mancato incasso dovrebbe essere compensato dalle strisce blu estive in Via Nazario Sauro. E poi sempre a Giulianova chiusura dei reparti è sempre la solita storia. Fagnano smentisce l'allarme sull'ospedale di Giulianova. Lavori di riqualificazione per salvare rianimazione. A pagina 13 siamo a Roseto dove l'ex parlamentare Ginobile tira le orecchie al PD Rosetano. L'ex onorevole Punzecchia e i compagni per gli abbracci con Luciano D'Alfonso. Convocato per lunedì il direttivo è servito per fare il punto della situazione dopo la debacle del voto del 4 marzo. Ad Atri anche in questo caso fibrillazioni in vista delle prossime comunali. Nasce il gruppo di due ex assessori. Italiene e Digiacinto si schierano con il candidato Ferretti e il sindaco uscente. La lista di Ferretti rappresenta il manifesto della vecchia politica che ha ingessato la città. Andiamo alla pagina dello Sport pagina 17 Speranza vede il bicchiere mezzo pieno il capitano del Teramo promuove il pari con Sant'Arcangelo per un difensore e un piacere non subire gol. Domenica arriva l'Albinoleff i bergamaschi sono in serie negativa il diavolo non vince tra le mura amiche dal dicembre 2017 sono ancora fuori causa Panico che potrebbe tornare a disposizione contro la Triestina. Abbiamo aperto la pagina dello Sport stiamo per vedere il servizio relativo al match di ieri sera tra Pescara e Carpi prima vediamo però le pagine di Centro e Messaggero qui siamo sul centro pagina 40 Rivoluzione Pescara ma è un altro fiasco Epifani cambia 7 titolari e vale il 3-5-2 il Carpi fa il colpo con Sabbione squadra in confusione e impaurita appena 3 punti sulla zona play-out poi ancora leggiamo in alto finale generoso ma la terza sconfitta di fila spinge il Delfino ai margini della zona retrocessione le dichiarazioni dei biancazzurri nel dopogara in particolare Balzano che mastica Amaro eppure la reazione della squadra c'è stata poi ancora le pagelle si spegne anche Brugman male gli esterni Fiammozzi e Balzano segnali incoraggianti da Mancuso schierato da seconda punta in pratica le sole sufficienze sono quelle di Mancuso e del portiere Fiorillo incolpevole sul gol parla anche il difensore per rotta basta sognare dobbiamo salvarci avremmo meritato almeno un punto ci avrebbe dato convinzione e autostima e poi le parole dell'allenatore Epifani ci è mancato un pizzico di fortuna contento per la reazione abbiamo cancellato il KO col Parma se giocheremo così i risultati arriveranno e poi ancora il messaggero ecco qui la pagina dello sport il titolo Pescara il futuro fa paura seconda sconfitta consecutiva per Epifani all'Adriatico passa il Carpi zona play out vicina il trainer ha ribaltato completamente il gruppo ma alla fine la manovra resta sempre a sprazzi Macin Bunino Fiammozzi e Cappelluzzo titolari Fornasier fallisce l'occasione del pareggio tanta buona volontà le parole di Epifani l'atteggiamento è giusto così possiamo fare bene potevamo pareggiare dopo aver messo tante palle in aria Sebastiani mi contestano se c'è chi tira fuori i soldi mi faccio da parte poi le parole del difensore per rotta mi dispiace per la piazza che ci segue allora il servizio firmato da Paolo Renzetti di Pescara Carpi 0 a 1 di male in peggio almeno a livello di risultati con la seconda sconfitta casalinga consecutiva nonostante una prova più incoraggiante rispetto a quella di tre giorni fa con il Parma la sostanza però non cambia con un altro KO il dodicesimo della stagione che non fa dormire sonni tranquilli e tifosi e che anzi fa scattare l'allarme in vista del posticipo di domenica pomeriggio al Partenio Lombardi di Avellino per una squadra apparsa frastornata quasi stordita anche al cospetto di un Carpi che si è limitato a svolgere il compitino restano così problemi di una formazione che ha mostrato tanti limiti anche questa sera al cospetto degli Emiliani ma che in qualche modo sarà costretta a cambiare a tutti i costi il proprio riolino di marcia per non precipitare in piena bagarre play out a distanza di tre giorni dalla pesante battuta d'arresto con la formazione parmigiana nella gara di recupero con il Carpi rinviata come si ricorderà lo scorso 27 febbraio per neve Epifani ridisegna il Pescara schierando la sua squadra con il 3-5-2 e stravolgendo l'undici iniziale con Coda per Rotta e Fornasieri in difesa e con a centrocampo Fiamozzi e Macin in attacco al fianco di Bunino spazio al redivivo Cappelluzzo Calabro ex giocatore del Castel di Sangro manda in campo la sua squadra con un 3-5-1-1 e con l'ex Federico Melchiorri terminale offensivo dei Rossi d'Emilia in uno stadio adriatico semi-deserto dirige Serra di Torino avvio quasi pronti via e subito gol della formazione ospite con Savione che in girata di testa su perfetto cross di Pacconic supera Fiorillo per l'1-0 al 14esimo Brugman dai 25 metri costringe Colombi alla deviazione in calcio ad angolo l'ennesimo avvio shock di gara condiziona pesantemente i biancazzurri soprattutto a livello mentale con la squadra nervosa ed impaurita dagli spalti si sentono nitidamente i mugugni dei tifosi delusi per l'ennesima prova in colore della squadra in campo il Delfino a Naspa ma almeno lotta anche se i risultati a livello di gioco e di manovra sono deludenti al 37esimo arriva ancora una conclusione dalla distanza di Macin che mette però sopra la traversa della porta emiliana si arriva così tra sbadigli e fischi al 39esimo quando Bunino controlla la sfera e tira in area emiliana trovando la respinta di Poli il finale di tempo vede il forcing infruttuoso di Biancazzurri prima del doppio fischio di Serra di Torino nella ripresa il Carpi si ripresenta in campo con Berna ex Lanciano al posto di Elenic al terzo subito ospiti propositivi con Dichiara che dall'interno dell'area abruzzese mette a lato il Pescara impacciato ed impaurito fa quello che può in una atmosfera sempre più surreale il Carpi con 30 gol subiti ed una delle migliori difese del torneo non rischia praticamente nulla con Colombi mai seriamente impegnato la spinta del Delfino va ad intermittenza ed è dettata più dalla disperazione che da altro Epifani al quarto d'ora gioca la carta mancuso al posto di Bunino l'ex San Benedettese si piazza in avanti con Cappelluzzo che al diciannovesimo dopo un pallone recuperato da Brugman calcia di poco fuori il Carpi al ventitresimo poi arriva però ad un passo dal raddoppio con l'ex Federico Melchiorri che grazie a il Delfino mettendo alto negli ultimi 20 minuti il tecnico del Pescara si aggrappa alla voglia di rivalsa di Cocco che prende il posto di Cappelluzzo colpito dai crampi i biancazzuri aumentano la spinta ma sbagliano anche gli appoggi più elementari facendo perdere la pazienza al fin troppo paziente pubblico dello stadio Adriatico al trentaquattresimo Epifani manda in campo anche Falco gli ultimi dieci minuti vedono come prevedibile l'assalto all'arma bianca del Pescara che ci mette anche il cuore ma la muraglia umana Carpigiana regge e così al quarantatresimo e Colombia direno a Falco prima di una conclusione alta di Mancuso al quarantasettesimo a chiudere una gara che nel finale appare davvero stregata per il Delfino Nel dopogara anche le parole del centravanti del Carpi ed ex della gara ed ex della partita Federico Melchiorri spero che il Delfino reagisca l'attaccante a Pescara ho lasciato un pezzo di cuore tanti applausi per lui e poi Foggia Pescara i DASPO salgono a 24 in totale 11 ultra biancazzuri e 13 rossoneri puniti per due anni altri 5 tifosi del Delfino in possesso di fumogeni la serie C con le parole del capitano del Teramo Speranza con il 3-4-3 difesa più sicura ora tocca le punte dobbiamo aiutarle e ritrovare la via del gol l'Albino Leffe non vince da due mesi serve una grande prova per la serie D l'Aquila ora il comune cerca nuovi soci la squadra torna ad allenarsi l'amministratore pensa di convocare una nuova assemblea tornando invece al messaggero ecco qui l'apertura di pagina Prisco a Malagò Stirpe e Quagliarella e Nicola la cerimonia a Chieti Gaia Piccardi per il giornalismo riconoscimento dell'Ussi Abruzzo a Mila Cantagallo e poi ancora per la serie C le parole come abbiamo visto del capitano Speranza Teramo buona difesa ma ora creare di più di spalla per il basket Roseto guarda Varese per l'azionariato diffuso presente anche Trento Quattraccioni esperienza che sarà proficua poi ancora Sieco al completo ad Aversa basta un punto e poi di spalla mountain bike il lancianese Costantini all'epic di Cape Town il portacolori della Dorsonia Racing Team emozionato e come giocare al Bernabeu in basso l'Aquila confronto squadra Miani sul fronte del campionato di eccellenza Real campionato finito per Lennart e finisce anche la nostra rassegna stampa odierna l'edizione di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari il TG6 delle ore 14 quello delle 19 e quello delle ore 23 io ringrazio Silvia Gentile in regia e ringrazio voi per la cortese attenzione buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.